La figura del creato nella Caltanissetta del 600 sarà il tema dell'incontro culturale previsto a Prestianni, domenica 22 luglio alle ore 20 con Rosanna Zaffuto Rovello, storica e studiosa delle tradizioni nissene. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma estivo 2018 organizzato dall'Associazione Amici di Prestianni. Sabato 28 luglio è previsto il torneo di carte per beneficenza Burraco sotto le stelle. Domenica 5 agosto alle ore 20 l'incontro culturale con l'architetto Luigi Santagati sul tema strade e ponti antichi di Caltanissetta. Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 agosto il triduo dell'assunta con l'intervento dei sacerdoti Tuminelli, Pilato e Spilla.